La meditazione Ho'oponopono è una meditazione di origine hawaiana e si basa sul principio di rimettere le cose opposte con l'universo. Infatti Ho'oponopono significa proprio riaggiustare le cose, si basa su questo principio di fisica quantistica di entrare in sintonia con l'universo. Per effettuare questa meditazione mettiti in una posizione comoda, tranquilla e rilassata ed ascolta il suono della mia voce. E mentre ascolti il suono della mia voce e respiri, lascia che l'aria possa entrare liberamente dentro i tuoi polmoni e via via che respiri sempre più intensamente lascia che l'aria penetri fino in fondo dentro i tuoi polmoni. E mentre tutto questo succede puoi renderti conto del tuo corpo e sentire che il tuo corpo diventa sempre più pesante e rilassato, sempre più pesante e rilassato. E via via che il tuo corpo diventa pesante e rilassato, la tua mente diventa leggera. E tu puoi lasciare entrare dentro la tua mente questo pensiero, questo mantra e recitarlo dentro la tua mente per riequilibrarti con l'universo, per mettere le cose a posto tra te e l'universo. Recita con me dentro la tua mente. Grazie, mi dispiace, perdonami, ti amo. Grazie, mi dispiace, perdonami, ti amo. Continua a recitarlo nella tua mente per altre sette volte. Grazie, mi dispiace, ti amo, perdonami. Grazie, mi dispiace, ti amo, perdonami. E quando hai completato la recitazione sentiti completamente in sintonia con l'universo. Lascia che l'universo penetri dentro di te come tu puoi penetrare dentro l'universo. Non c'è più differenza tra l'interno e l'esterno, tra dentro e fuori, tra il sopra e sotto. Ricordati di recitare questo mantra ogni volta che ne senti l'esigenza, ogni volta che ne senti il bisogno per risintonizzarti con l'universo, per rimettere le cose a posto tra te e l'universo. In modo tale che naturalmente possa accadere ciò che per te è buono e giusto. Bene, questa meditazione è molto efficace e invito tutti a provarla. Vi invito a seguirmi sul blog www.soluzionevip.com. Ciao a tutti!